Rieccomi qui carissimi amici e amiche di TV6 bentornati all'appuntamento col meteo. L'alta pressione africana domina incontrastata su tutto il Mediterraneo qualche nota instabile solo all'estremo sud in Sicilia per effetto di un nucleo fresco in alta quota circondato dal vasto anticiclone eccolo qui che sovrasta tutta Italia e tutto il Mediterraneo. Questo anticiclone ci farà compagnia fino al termine della settimana, poi probabile una rottura estiva con aria più fresca in arrivo dal nord atlantico. Per quanto riguarda questo martedì 22 agosto stabile ovunque, sereno, una giornata molto calda su tutto l'Abruzzo, notate le temperature massime fino a 35 gradi, specie nei settori interni, caldo a foso sulle coste, umidità quindi che andrà man mano aumentando, sarà ancora più caldo e ancora più a foso nei prossimi giorni, almeno fino a sabato. Con questo concluso ci risentiamo nel prossimo appuntamento sempre qui su TV6.